Ha perso la vita in un drammatico incidente lungo la strada provinciale 208, in località Montalone, trachiusi della Verne, Pieve e Santo Stefano, in provincia di Arezzo, lungo la salita dello Spino. La vittima è un motociclista di 70 anni, originario di Ravenna, deceduto in seguito ad un terribile schianto tra un'auto ed una moto in cui ha avuto la peggio il Centauro. Sul posto i sanitari del 118 che hanno attivato l'elisoccorso Pegaso, ma sono risultati inutili i tentativi di rianimazione degli operatori dell'emergenza urgenza. Per il motociclista non c'è stato niente da fare. Quando sono arrivati i soccorsi il 70enne non era più cosciente, sarebbe infatti morto sul colpo.